Sono i primi effetti dell'acqua pubblica, dice qualcuno, visto che da Fontanelle arriva una brutta storia legata ad una burocrazia esasperante che la dice lunga proprio sul nuovo servizio idrico. Oggi vi mostriamo delle immagini diffuse dal comitato di quartiere Fontanelle insieme per segnalare ancora una volta come l'acqua si perda per strada rischiando il cedimento del mando stradale nel silenzio più assoluto. Una vergogna insomma, una grande vergogna che non si riesce a superare. L'AICA, ci dice Vito Lauricella, presidente del comitato di Fontanelle, ci rimanda al comune perché adesso sono gli operai del comune che dovrebbero intervenire. Ma chissà che non intervenga prima la procura della Repubblica alla quale è stata inviata per conoscenza la segnalazione dei guasti. Segnalazione che da parte degli enti preposti, tra cui l'AICA, non ha avuto ancora alcun seguito con la conseguenza che vi mostriamo. Forse è il caso di ricordare che si tratta di acqua che si farà pagare agli utenti. Una vicenda tutta da seguire e noi la seguiremo.